Allora, come funziona il gioco? Il gioco funziona che tu puoi selezionare da questa box delle cose per arrivare alla fine, ovviamente inizialmente devi provare ad arrivarci mentre gli altri devono provare a non fartici arrivare No! Lo sborricchio! No, c'è anche il po' di roba! Oddio! Oddio Marzole! Oddio sì! Oddio sì! Praticamente c'è questo party box, bisogna inserire della roba Oh, chi si è ciucciato la moneta? La devi piazzare però per arrivarci Io mi metto lo sborricchio Guarda quell'altro! No, non mette quella mondezza lì Ma quante cazzo ne sapete voi? Anzi, devo prendere quella moneta Ma il maestro mi ha solo sborricchio su ogni cosa No! No! Dai figlio di puttana! Ma sei buono! Ah, è morto Gianco, è morto Gianco nel chilling La fretta di dover giocare contro di voi, sì Attento, ma è stato... No, sono stato secato! Ma ti ha ciucciato pure a te! Ma non l'avevo visto! No, la bomba serve per rase... vabbè Vabbè per distruggere delle cose Ci lo mettiamo qua? No, 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 rompi le cose! No, ma dove ci serve? Ma sei un clown! No, Marzone! Vabbè, in realtà potrebbe starci Ma quanto ne sai? Ma oddio! No! E che tasti ci so sul computer? No, guardalo, 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 guardalo! Tatta! Ah, con lo shift fai lo scatto! E si gode! E si gode se non ce la fa! Dai, dai, che ti prego, vai sul filo spinato alla fine! Vuole prendere la moneta? No! 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 Che culo! Ma vabbè, boys! A casa, vediamo! A casa! Mi ha vinto! Ma te ne ha fanculo, guarda! L'obiettivo adesso è non farlo vincere! Ragazzi, ma... Ma guardate, guardate! Questo sono io! Ultimate Chicken Horse! Orco! Godo! Sono morto! Gianchi, dobbiamo vincere! Non importa chi! Ma bisogna vincere! Ok, ok, questa cosa mi sa che ci sbombola via. Ma come fai, tra l'altro? Robby, grazie per i cento. E prendi il secondo pregno. Ma questo ne sai una più del diavolo. No! Sì? Il filo spinato. Ok, ho vinto. Cioè, hai vinto solo saltando sopra? È zitto. Il filo spinato che mi sono messo da solo, ragazzi. Va bene. Forbacco! Sei stato il mio grandissimo aiuto nel periodo di quarantena. Cioè, ma hai distrutto quello che ho premesso? Per chi butta sotto dei luci. Bravissimo! Manz! Uh, fai un po' più a destra. Non ci posso credere, ragazzi. Vincio il marzone. Manz! No, va bene, ha vinto il marzone. Dai, ho capito, ha vinto il marzone. Ma tu, però? Poglissima! Ha vinto il marzone, boys. Gis, ha vinto il marzone. Ma che il suo mi ha dato? Lo spendete subito quei due clown. Vabbè, io ci avrei messo una cosa in più della, no? Qualche cosa si è inventato quel pazzo scatenato nel urlo del bordo? No, ma il devil la speedrun è in volta. Calma, calma, fallo morire. Ma si gode. Ma regà, dai, ma... Ma è incontrollabile. Finestra, grazie per questa babattia. Ma che vuoi da me? Mi può aiuto? Io voglio andare su quel pistacchio là, lassù. No! Come faccio? Maestro, devi fare un lancio esagonale qua. ho vinto cosa vuol dire trappola no lo devi mettere dove c'era la colla adesso non passa nessuno oh c'è anche io no ma ha preso la moneta questo clown ma chi cazzo è? no la vince è morto ragazzi ci vedete la mamma troia no ma non ci parla è su tutti i giochi da real marta è il migliore ho vinto io quindi non ho capito si si hai vinto tu l'ultimo in solo oddio ma è difficilissimo ma che cazzo è sta roba ok ci sta e come ci arriviamo sopra ma cosa è serio questo premio? ma dove sono caduto? le ortiche mi hanno punto il culo ma che cazzo è? ma ci sono le ortiche lì che ti fuggono ma che cazzo è successo? scogliattolo vuole giocare per scar- già smarza? ma fia della mignotta? che cazzo è scogliattolo? ma vai a fare in culo questo qui comunque è bella articolata questa qua se mettiamo le trappole giù c'è la fine dai ma non è possibile guardo? eh sì ci sto lavorando ho più ad andare troppo adesso che ci sono le ortiche le ortiche? ma dell'ortiche il fuoco non è che se per il becchiamo il timing sbagliato siamo fottuti? eh sì junkie ma io avevo troppa paura di chi hava sto coso? io il salto non lo faccio vecchio il vetro no ragazzo sono morto col vetro dammi subito sta lama proibita dammi sta bomba che esplode no addissimi IQ quello ma chi ha messo sto baccarozzo qua in mezzo alla valle? occhio junkie occhio te te mi tina pericolosamente ah oh non sono junkie ma di lui il nifu di lui il nifu ah sì ah sì muori per forza in sta mappa di lui è già la seconda volta che cade dove c'è il bello ma sai perché? perché c'è la girl ma guarda che culo di merda occhio no no lo smelta no no regà è incontrollabile eh sì perché slitta sì slitta ma sì ma è controllabile dammi sto pettardo corpizzo no lo metto io minchia fai saltare questo cazzo lo smelta fuoco ma non l'ha rotto ma non l'ha rotto ma dai lo fai rompire lo smelta fuoco no rompete lo smelta fuoco marzone? no vabbè marzone ma dai ma zì non si governa ma mamma mia che rischio ma non nemmeno ho toccato aiuto ma che culo ma che culo deve tu ma c'è un culo di merda ma io vai parla vai parla vai parla no vabbè no dai sei un pompiere ma nassi ma sei il pompiere no vai oddio no che culo guarda 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 ragazzi guardate stuc ah davvero ballo ballo come ragazzi ve la lancio lì sopra le rotiche c'è una pedana l'uomo penitente sepp ma sì no 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 brutto gioco di merda amazone vabbè ragazzi posso posso dirlo che ho vinto sì ah ok a posto easy questa mappa è ingoversabile tu easy ragazzi no tanto non ci arrivi da lì maestro con cui il vetro ci va bene va bene la ragazzi la la mappa di gg gg questa è stata super stonks la fattoria super stonks porca super stonks l'ultima hit pollo dichotMI yet cgg gg ti senti che abbiamo trovato un gioco dove puoi essere una pest marzone ti spacco la testa adesso E' il futuro questo gioco Chi non arriva qua è un clown Beh non arrivare qui è un problema, si Eh se ci sono i monti che facciano le bette